Antonio Macri, referente a enti locali Lega Calabria e Riccardo Montanaro, responsabile comunicazione Lega Giovani Calabria, chiedono che in memoria di Simona Cavallaro, i sindaci dei comuni calabresi e gli enti superiori ad esporre la bandiera a mezz'asta nella giornata di oggi, 30 agosto. Una tragica storia che non avremmo mai voluto sentire raccontare. Purtroppo una giovanissima ragazza è stata vittima di un attacco da parte di un branco di cani che vagava nei boschi delle serre catanzaresi. Un vuoto che sicuramente sarà incolmabile per la famiglia della giovanissima, ma che deve far riflettere tanto le parti istituzionali e a tutti i livelli nazionali. Bisogna predisporre operazioni di controllo del randagismo e regolamentare l'utilizzo dei cani pastori da parte degli allevatori, ma soprattutto bisogna evitare che si ripetano vicende del genere. Tanti dei partecipanti si sono messi in fuga anche tra i boschi e per questo non tutti sono stati identificati. Nel corso dell'irruzione non sarebbero stati rinvenuti stupefacenti, ma prontamente è stato avviato in prefettura un vertice con le autorità locali e si prosegue con mirati accertamenti.